Il lavoro nei cantieri navali e poi il linguaggio tessile del Mediterraneo, anche questo è il Festival Adriatico Mediterraneo che parte proprio questa sera con un ricco ciclo di mostre. Ma sono 200 gli artisti che si avvicenderanno sul palcoscenico del fronte mare di Ancona, il direttore artistico Giovanni Seneca. Dal primo pomeriggio fino a notte fonda sarà possibile quindi vedere incontri, assistere a musica, sia musica classica che musica popolare, in 20 spazi della città. Possiamo anche dire che quest'anno il tema che abbiamo voluto dare è questo del fronte mare, un fronte mare che sicuramente ad Ancona non è così di facile fruizione, ma noi attraverso una serie di appuntamenti che si svolgono dall'arco di Clementino fino a Marina Dorica cerchiamo di valorizzare ogni singolo spazio. Seguiamo idealmente quello che è il percorso del Sole che sorge a est e tramonta a ovest, così come nel Mediterraneo sorge nel Bosforo e tramonta a Gibilterra, da noi sorge all'arco di Clementino e tramonta a Marina Dorica e quindi tutto ciò che accade nel Mediterraneo durante un giorno in qualche maniera lo facciamo capitare anche ad Ancona. Attraverso le linee guida tracciate dal contributo di molti ospiti, il festival rifletterà sulla valenza sociale storica dei porti del Mediterraneo, sulla storia dei Balcani in occasione del ventennale dell'assedio di Sarajevo e sull'evoluzione della primavera araba.